Alberto Manzi muore 20 anni fa a Pitigliano, in provincia di Grosseto. Docente e pedagogista, deve la sua notorietà al contributo che diede nella lotta all'analfabetismo in Italia. È stato il padre di Non è mai troppo tardi, la prima trasmissione didattica televisiva diffusa dalla RAI negli anni dal 59 al 68. La sua è stata una vera e propria missione, raccontata peraltro recentemente da una fiction su RAI1, arricchita in esordio dalla sua esperienza di insegnante nel carcere minorile di Roma. E proprio l'incontro con i giovani in forti difficoltà è stato lo spunto per il suo primo libro, premiato nel 48 con il premio Collodi, riservato alle opere inedite. Studioso naturalista, negli anni 50, riceve anche l'incarico dell'Università di Ginevra di svolgere una ricerca nella foresta amazzonica e, manco a dirlo, lo troveremo poi per un ventennio a insegnare, a leggere e a scrivere agli indios. Educatore di forte impegno sociale e anche politico, ma anzi fu anche sindaco di Pitigliano. La sua ultima collaborazione con la RAI risale al 1996, quindi un anno prima della sua scomparsa, con un'altra trasmissione, stavolta dedicata agli italiani emigrati all'estero.